Un minuto dopo diventa oro colato perché Manuele Francioni inventa questa gran giocata firmando l'undicesima rete stagionale. Avere un momento d'oro per il bomber Eugubino, grandissima la sua girata, la sua volée con la quale l'utile ritorno di Ferretti. E beffa sul primo palo l'incolpevole Tamburini. Insomma la trentasettesima della ripresa, di fatto la partita è finita qui, anche Lisarelli va a esultare con il suo bomber che sta reggendo alla grande il peso dell'attacco dopo l'infortunio di Marco Gaggiotti. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!